Sabato 8 maggio 2010, DJ Aid, Solidarity Nightlight, Disco Plaza, Tortoreto, musica e spettacolo con ogni genere dance. Area 1, Night 7 Live, Luca Teseo, Electro Magic Duo, Live, Fabrizio Cianci, Glauco Città, Cesare Fosca, Giorgio Romanelli, Simon Amadio, Ubi, Vincenzo Lapasta, Le Voce e Lo Spettacolo di Willy Deluxe, Andrea Sisopo, Rino Love, Area 2, Priveti T.M.T.M. Marche, Gianluca Jacopini, Leoparo, Mattia Matricardi, Sergio Sprecacenere, Andrea D'Annunzio, Anthony Ray, Andrea Vitileia, Disco Bass, Partenze da Pescara, Avezzano, Ascoli Piceno, Radio Partner, Radio Delta 1, Radio Pazzipan, Radio Ketchup, Radio C1, Radio G, RMV, Radio Montevelino. L'intero incasso di questa notte evento sarà devoluto all'Agbe, Associazione Genitori Bambini Emopatici. 8 maggio, prima edizione di DJ Aid, Disco Plaza, Tortoreto.